Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per i prossimi giorni. A metà settimana tra 14 e 15 novembre assisteremo ancora a tanto maltempo sull'Italia, questa volta per effetto di una nuova perturbazione atlantica che si piazzerà tra la Francia, la Germania e il nord Italia, quindi porterà tante piogge sui settori centro-settentrionali della nostra penisola. Questo vortice ciclonico piuttosto incisivo coinvolgerà principalmente le aree tirreniche del centro-nord, della pianura padana all'arco alpino dove si prospettano piogge molto intense, tutto questo mentre al sud aveva una fase leggermente più stabile e meno perturbata. Nel dettaglio quindi i fenomeni si concentrano sul centro-nord Italia con piogge intense anche localmente a carattere di nubifragio, soprattutto in Liguria, Alto Piemonte e Lombardia e a seguire anche sul Triveneto nella giornata di venerdì. Dei fenomeni sparsi anche al sud, ma in particolar modo sul lato tirrenico, un po' più asciutto sulla Puglia. Le temperature massime, mediamente comprese tra i 12 gradi del nord e i 19 del meridione, le minime tra i 6 gradi del nord e i 13 del sud. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e a tutti voi auguriamo una buona giornata.